Eccoci qui, ci ritroviamo nel nostro angolo dedicato alla creatività con un'amica molto speciale, Francesca Ghidini. Ciao Francesca! Ciao! Cosa ci presenti in questa puntata tutta dedicata al carnevale? Allora oggi vi farò un po' vedere come si fanno delle stelle filanti e dei coriandolini con la pasta di zucchero colorata. Quindi si mangiano? Sì certo, tutti si possono mangiare tranquillamente. Benissimo allora, Francesca che cosa serve prima di tutto? Allora ovviamente la pasta di zucchero colorata che si può colorare con i coloranti sia in polvere che in gel, la pasta di zucchero in questo caso può essere indifferentemente sia pasta di zucchero da copertura che da modellaggio, nel senso che quelle stelle filanti non sono una cosa tanto che deve avere una struttura tanto ferma per cui possono essere utilizzate entrambe le pasta di zucchero e soprattutto appunto i coloranti. Perfetto allora come procediamo? Iniziamo con la pasta bianca? Sì, beh prima innanzitutto bisogna ricoprire la torta, decorarla un po'. Noi vediamo qui solo la decorazione delle stelle filanti e dei coriandolini. Sì che possono anche essere messe su un cupcake, dei biscottini oppure anche messe così come decorazione. Allora innanzitutto vi faccio vedere come si colora la pasta. Bisogna necessariamente mettersi i guanti perché altrimenti ci si sporca le mani e quindi ogni volta bisognerebbe lavarsele e poi si rischia anche di macchiare la pasta di zucchero del colore successivo. Noi sappiamo che per ricoprire la torta del cake bisogna utilizzare della pasta modellabile di copertura e invece per fare le decorazioni normalmente si utilizza una pasta di zucchero per la modellazione. Per fare le nostre stelle filanti che sono molto semplici possiamo utilizzare indifferentemente o la prima pasta o la seconda pasta. Se la pasta di zucchero da copertura risultasse un po' troppo morbida basta aggiungere un po' di cmc che è un additivo che è sintetico come sempre è alimentare. Assolutamente sì per renderla un po' più strutturata però insomma non serve a volte non serve nemmeno. Perfetto. Allora vi faccio vedere. la pasta bianca? Sì pasta bianca. Che è leggermente ammorbidito? Ammorbidito e adesso mettiamo un goccino di colorante. Ok questo qua è in gel? Sì in gel. In questo caso abbondo perché il colore delle stelle filanti è abbastanza carico. È bello vivace. Sì altrimenti se ne può usare anche una piccola goccina. Perfetto. Sempre con uno stuzzicadenti lo metto al centro e quindi incomincio a mescolare abbastanza vigorosamente. Non vi preoccupate se il tappetino si sporca. Questo è proprio un tappetino apposta per la modellazione. Poi che può essere comunque tranquillamente lavato con un panno bagnato oppure anche quel detersivo per i piatti va benissimo. Può essere messo anche in lavastoviglie? Sì e va anche in forno questo. Va anche in forno? Puoi fare tutti i tuoi biscottini, le tue cose e poi metterlo direttamente in forno? Sì sì perché essendo in silicone non hanno sì. Anche questi prodotti sicuramente si trovano in negozi specializzati. Esattamente sì. Dappertutto. Perfetto vedo che stai è velocissimo. Per bene è diventato un bel rosa. Un bel rosa sì. Proprio per mescolare il colore. Sì sì sì. Proprio come fare la pastella dai? Uguale. I coloranti in gel e in polvere sono uguali. Danno una colorazione piena entrambi. Se si vogliono delle colorazioni un po' più chiare basta metterne qualche goccia in meno oppure aggiungere la pasta di zucchero. Perfetto. Consiglio sempre di iniziare dando una colorazione chiara in modo che poi do non sprecare eventualmente. Certo. Questa è la nostra pasta di zucchero pronta. Io adesso lo prendo con le mani. Questo qua è la nostra pasta di zucchero che da bianca è diventata rosata con il colorante in gel. Sì in gel. Perfetto. Allora prima di tutto dobbiamo munirci di due stampi di due tagliapasta. Uno un po' più grande e uno leggermente più piccolo in modo da poter fare le due forme. Vedo Francesca che tu hai già preparato delle altre. La facciamo magari sul giallo? Giallo. La prima stella? Allora la pasta è già colorata. Quando si colora la pasta bisogna leggermente lasciarla riposare in modo che prenda il colore pieno altrimenti il colore si scurisce un po' leggermente. Mamma senti che profumo di vaniglia. È fantastico. Allora una volta ammorbidita un po' la pasta perché quando rimane lì è sempre un po' si indurisce un attimo. Ecco l'importante è non tenerla mai come adesso lo facciamo noi ma non tenerla mai perché essendo una pasta che si asciuga all'aria logicamente rischiamo che si asciughi. Con il nostro materialino? Non la stendiamo troppo anche perché la stella filante comunque è abbastanza. Perfetto un bello spessore. Poi lavorata. Sì c'è un piccolo fiore. Perfetto lavoriamo con la parte rotonda. Sì proprio perché dobbiamo creare un anello. Allora iniziamo dal tondino più piccolo. Togliamo bene in modo da staccare proprio la pasta. Certo. Lasciamo però la parte interna. Sì perché ci serve come guida per la seconda. Ah ecco. Perché a noi serve proprio solo la parte della circonferenza. Sì diciamo. Se facciamo il contrario è più difficile beccare il centro giusto. Certo. Lo ruoti un attimino. Sì per staccare proprio la pasta tutta intorno. Tolgo la parte che non serve più e poi con il mio attrezzino. Gli attrezzini. Gli attrezzini. Il coltellino. Eccolo qua. Questo è un coltellino ok. Sì. Tolgo la parte interna e mi rimane la mia rotella. Perfetto. Questa posso sia lasciarla asciugare un pochino in modo da dargli la forma perché adesso è molto morbida. Si ammorbidisce troppo e quindi però se io la metto da una parte e la lascio asciugare. Certo. Mi rimane mi mantiene la forma. Nel frattempo che lei si asciuga un po'. La facciamo in un secondo colore. Esatto. Ok. Vieni qua un po' nel centro. Sì. Scusa. Ecco qui. Quindi. Ammorbidisco il secondo colore. Perfetto. Intanto che tu ammorbidisci io ricordo che bisogna utilizzare della pasta di zucchero o quella di copertura o quella modellabile. Quella di copertura se è un pochino troppo dura possiamo mettere. No. Morbida. Morbida. Scusa. Scusami. Sei troppo morbida. Possiamo mettere qualche goccia di? Di CMC. CMC che è un prodotto apposta sempre alimentare. È un addensante. È un addensante. Benissimo. E possiamo recuperare le nostre anelli, i nostri proprio anellini di stelle filanti. Quindi utilizziamo il primo piccolo. Stacchiamo bene. Ruotiamo per bene. E il secondo un po' più grande. Come hai detto prima non togliamo assolutamente la parte centrale. No. Perché ci serve come guida. Sì. Come riferimento visivo proprio per fare. Se facciamo il contrario. Cioè prima facciamo quello grande e poi quello piccolo. Certo. Il centro non ci viene bene. Benissimo. Quindi così è più pratico. pratico. Con il coltellino. Con il coltellino togliamo anche tutto insieme come volete. Dopo è lì. E questo è un po' di praticità. E questo interno si può recuperare. Sì. Sì. Dopo lo rimescoliamo insieme. Lo possiamo rimescolare a questa pasta. Poi una volta che abbiamo fatto il secondo strattino un pochino di colla alimentare che è una specie di gelatina. sì. Mettiamo la colla sul primo anello che nel frattempo un pochino si asciuga. Certo. Bisognerebbe lasciarli. E appoggiamo il secondo anello. Poi facciamo in questo modo in modo da pareggiare proprio i due anellini. Certo. Uno sopra l'altro. E così via nei vari colori. Nei vari colori fino a raggiungere tutto il rotolino. Certo. Il rotolino. Il classico rotolino che poi i bimbi si divertono a soffiare. Questo si divertiranno a mangiarlo. Esatto. Esatto. Perfetto. Ora vi mostro come si possono fare le stelle filanti. Dopo che sono state soffiate. Esatto. Le facciamo sempre dello stesso colore. Sì. A questo punto la stella filante però deve essere un po' più sottile. Per cui la pasta dovrà essere assottigliata un pochino di più. Sempre con il nostro mattarellino. Stendiamo un po'. Poi la lunghezza dipende da quanto vogliamo. Certo. Decidete voi. Non ha importanza. Un pochino più bassa. Un pochino. Perfetto. Non troppo però altrimenti dopo crolla tutto. Possiamo sempre con il coltellino tagliare delle striscioline. Sì. Larghe un mezzo centimetro all'incirca. Non tanto più larghe. Certo. Se non riusciamo a essere precisi non importa perché tanto non sono le stelle filanti. Dopo alla fine quando si rotolano non succede nulla anche se sono più larghe. Vedo Francesca che non hai messo niente sul tappettino. Non c'era il caso. No perché questa che sto usando io è la pasta da modellaggio. Ok. Per cui la pasta da modellaggio è un po' più asciutta e anche alcune sono paste da appunto come dicevo quel CMC che risultano un po' più asciutti. Perfetto. Quindi non c'è bisogno di mettere né zucchero né farina sotto. No. Perfetto. Volendo si può utilizzare un po' di amido in questo caso. Ok. Non lo zucchero. Allora poi mi prendo una spatolina o un bastoncino un po' largo e dritto. Dritto e rotondo. Sì rotondo certo. E arrotolo. Comunque negli strumenti da cucina si può trovare. Sì tranquillamente sì sì. Può essere anche usato un pennello solo che il pennello non è uguale dappertutto. E poi magari mi trovo il modo di... Un sostegno. Sì perché non deve appoggiare altrimenti si schiaccia leggermente. Perfetto. E in questo caso lo lascio ad asciugare. Quanto tempo Francesca serve? Lo dobbiamo lasciare ad asciugare? Beh possiamo lasciarlo anche una mezz'oretta. Non importa. L'importante è che magari ogni tanto lo stacchiamo leggermente dalla... Ok lo ruotiamo un po'. Sì. Altrimenti si appiccica la spatolina al manichetto e quindi... Questi che è appena fatto quando poi verranno staccati dal nostro... dalla nostra spatolina dal manico della nostra spatolina risultano essere... rimanere così. Sì 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 sì. di stelle filanti. Ascolta a Cardevale oltre alle stelle filanti ci sono anche i coriandoli. I coriandoli. Ci dai qualche idea per fare i coriandoli? Sì. Allora io ho usato dei confettini... delle caramelline cioè dei confettini colorati oppure tranquilli semplicemente sempre utilizzando la nostra pasta di zucchero sempre con il mattarellino appiattendola bene. Si possono utilizzare degli stampi d'espulsione che sono fatti apposta, cioè rotondi, piccoli rombi anche questo qua un po' più piccolo. Certo noi usiamo magari il cerchietto ok? Sì. Schiacciamo leggermente la pasta, giriamo bene in modo da staccare l'intorno, schiacciamo un pochino e poi tac. Ecco qua il nostro coriandolo. I nostri coriandolini. Sembrano proprio le caramelline di zucchero. Esatto. Francesca un'idea bellissima, simpatica, velocissima anche per abbellire comunque torte, magari anche la crostata della nonna. Sì sì sì. Proprio per darle l'idea simpatica. Guarda Francesca io ti ringrazio tantissimo. Prego. Ricordo che potete trovare tutte le informazioni e tutti i dettagli dei prodotti utilizzati sul sito www.laravella.com, anche la presentazione della nostra carissima amica Francesca e vi aspetto a una nuova puntata dedicata alla creditività. Grazie a tutti, grazie tanto Francesca. Prego, arrivederci.